allora oggi proprio andiamo sul petrolio sul brand tentiamo una diciamo lavoriamo un po sulla debolezza per figure tecniche per una situazione di per venduti per comprato andiamo short sul brand con ingresso 85,84 dollari per barile stop 86,60 invece target circa un dollaro e 4 sotto al barile 84,80 grazie